Pop music, pop music. Una realtà parallela che vive di sentimenti attraverso la musica, i racconti e le immagini. Lei trascende le emozioni e poi le trasforma in collezioni. Moda. Quanti clienti sono arrivati? Nessuna. Lui? Ma che ci fa qua? È il nuovo direttore commerciale! Zero ordini per zero euro. Quindi come siamo messi? A gonfie vele. Credo che sia il caso di dire la verità a Giuseppe. Troppe donne in questa azienda. Vedo un amore impassionale. Che chiamo per uno scoop? Vediamo! Bella lì! Ma come ti permette? Mi devi andare! Si può ottenere qualcosa. Devi crederci. Mi piace! Ciao! Grazie a tutti.